Lavoro di molti, la passione di tante passione, vi faremo, inizieremo facendo questo giro, dopodiché il resto magari lo concentriamo sul suo piano. Quindi se siete d'accordo, sono sicuro che farà molto bene qui a Domovianca, il sindaco Pizzi ha preso benissimo il suo testimone e interpreta veramente quell'amore per la città e quella voglia di fare bene per la città. Complimenti al gruppo di giovani che sono anche abbastanza miei coetani, li portano meglio di me, a me la politica è un po' invecchiato, loro sono più energici, gente che ha passione per la montagna, per lo sci ed è importante avere loro che possano collaborare e i risultati si vedono, si vedono la gestione dei maestri di sci, dei locali, dei bar, dei luoghi, di aggregazione che servono delle piste e da sci. Quest'anno è stato un anno nefasto. Speriamo di essere all'altezza della nostra attesa. Grazie di essere venuti, avete freddo, vi spiammi i locali, grazie di tutto. Grazie. 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 Grazie a tutti.